Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del crotone calcio. La società ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo tecnico che subentra Franco Lerda. Romano, 52 anni, Zauli vanta una lunga carriera da calciatore con le maglie tra le altre di Vicenza, Bologna, Palermo e Santoria. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2009 con Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l'Italia. Nel 2019 approda la Juventus dove gli viene affidata l'Under-19. Nel 2020 viene promosso alla guida dell'Under-23 in Lega Pro dove rimane per due anni prima di una breve parentesi al Sud Tirol neopromessa in Serie B all'inizio della stagione attuale. Alla presenza del presidente Gianni Vrenne e del direttore generale Raffaele Vrenna, il nuovo allenatore del crotone ha firmato un contratto fino al giugno 2023 con rinnovo automatico nel caso di promozione in Serie B.